Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale se non mi conoscete, bentornati sul mio canale se già mi conoscete. Mi chiamo Angela e ho deciso di iniziare un nuovo format, quello dei podcast, per poter parlare di argomenti non per forza legati alla lingua italiana, ma che possono essere di interesse generale e allo stesso tempo possono aiutarvi a praticare l'ascolto e a migliorare il vostro livello di lingua. Oggi vorrei parlare del tema del confronto con gli altri, il rapporto con se stessi e questa ossessione quasi del confronto con gli altri e con le vite delle altre persone. Ho deciso di trattare questo argomento perché, soprattutto a causa dei social, vediamo che siamo bombardati costantemente da questa visione delle vite altrui. e come potete ben immaginare, come sono sicura molti di voi abbiano già capito e fatto le proprie analisi, la vita altrui che vediamo attraverso i social media è sempre una versione, quasi sempre direi, una versione artefatta di ciò che realmente viviamo, perché è inevitabile ed è anche in qualche modo comprensibile che vogliamo sempre mostrare la parte migliore di noi, la parte migliore delle nostre giornate e quindi riprendiamo un bel posto dove abbiamo mangiato, riprendiamo dove abbiamo fatto le vacanze, ci facciamo selfie quando siamo felici o siamo taggati in foto quando usciamo, quando insomma viviamo dei momenti felici della nostra vita e mettiamo in ombra, nascondiamo, non mostriamo. Non è decisamente social la nostra parte più triste quando non ci va appunto di scorrere la bacheca di Facebook, quando non ci va di scorrere il feed di Instagram e purtroppo questo alimenta un loop, perché quando siamo più vulnerabili e ci rivolgiamo ai social per un qualche tipo di svago, inevitabilmente ciò che vediamo sono vite perfette e questo ci fa domandare, perché la vita degli altri è perfetta e la mia non lo è? riflettevo su questo tema e pensavo a quanto tossico possa essere questo confronto, prima di tutto perché noi non sappiamo cosa c'è dietro la vita degli altri, realmente sappiamo soltanto quello che ci stanno mostrando e poi perché siamo sempre in qualche modo ingiusti con noi stessi, tendiamo sempre a vedere i nostri fallimenti perché ovviamente noi siamo quelli che li vivono in prima persona, quindi noi conosciamo i lati più oscuri di situazioni che ci riguardano, del nostro carattere, della nostra vita e invece negli altri vediamo soltanto ciò che brilla e ci fa sentire ancora più depressi. Sicuramente se siete interessati a questo argomento, comunque se l'avete spulciato un po' in altri ambienti, saprete che è inutile dirvi che ognuno ha i propri tempi, ognuno ha i propri traguardi, non bisogna fare il paragone con gli altri ma bisogna fare il paragone con ciò che eravamo, con le versioni precedenti di noi stessi. Però nel mio caso, nonostante io avessi letto numerose volte tutta la teoria su come non confrontarsi con gli altri, confrontarsi in questo modo, non a livello di idee perché il confronto ci vuole del confronto è salutare, sano, ma questo tipo di paragone. Anche io che in teoria sapevo queste regolette, in realtà non sempre ci riesco, è anche per questo che mi piacerebbe trattare l'argomento perché vorrei sapere cosa ne pensate voi, vorrei sapere se è una cosa che vi sta a cuore, se è una cosa a cui avete pensato o se è un argomento a cui non avevate pensato prima e in cui vi state imbattendo soltanto adesso. Quando penso alle vite degli altri, ciò che mi viene in mente è sempre che ciò di cui io sono colpevole è che vedo sempre la vita degli altri come lo specchio di ciò che a me non è riuscito, quindi c'era sempre la persona che aveva una relazione quando io non l'avevo, c'era sempre la persona che era in vacanza quando io invece ero in situazioni tutt'altro che piacevoli e non mi davano l'opportunità di essere in vacanza, di avere tanto tempo libero o a livello più profondo toccavano delle insicurezze, quindi c'era sempre la persona con quel corpo perfetto, con quella vita che sembrava perfetta, quindi gli amici, il corpo meraviglioso, una vita che sembrava ben incanalata verso gli obiettivi di questa persona e per carità poteva benissimo essere che queste persone erano le più felici del mondo e non avevano tutti i bassi che altre persone invece hanno, ma il problema intrinseco in questo tipo di confronto è che non c'è un confronto, è che siamo soltanto noi con le nostre paure, le nostre insicurezze che vediamo dall'altro lato qualcosa che ci sembra perfetto, punto, il confronto finisce lì, non è uno scambio ma è piuttosto un voyeurismo, è piuttosto un guardare attraverso lo spioncino della porta e questo spioncino è rappresentato dai social, guardare ciò che gli altri ci mostrano e ingiustamente fare il confronto con ciò che noi nascondiamo anche agli altri. Questo tipo di confronto è tanto tossico quanto, a mio avviso, la falsa positività condivisa sui social e anche io ero colpevole di questa falsa positività, cioè vedere tutto necessariamente come perfetto non neanche come perfetto ma come ottimista, ce la puoi fare, raggiungerai i suoi obiettivi volere, potere, se ci credi ce la fai, resisti, conquista tutte queste belle parole e sinceramente, sicuramente c'è un fondo di verità nel fatto che bisogna lavorare per ottenere e questo lo credo fermamente, però penso che ci voglia anche il cosiddetto reality check cioè dobbiamo anche a volte renderci conto che tutta questa positività fine a se stessa quindi che non è motrice, non è una forza che ci spinge davvero a migliorarci ma tutta questa positività può allontanarci da quello a cui vogliamo davvero lavorare e quindi mi sono io in primis resa conto che la mia risposta a questo confronto era una positività che non mi portava da nessuna parte e quindi io personalmente ho iniziato prima di tutto ad allontanarmi dai social in special modo da Instagram che mi è sembrato davvero una fiera di vite artefatte e ripeto, non voglio fare di tutto un erbo a un fascio perché sono sicura che ci sono persone che non utilizzano i social in questo modo però nella fattispecie, nel mio caso, il mio feed era diventato questo e quindi ho sentito il bisogno di allontanarmene e più in generale, oltre ad allontanarmi ho dovuto fare un passo indietro proprio nella vita di fuori dei social e capire che è vero quando diciamo che ognuno di noi ha un percorso diverso ognuno di noi ha obiettivi diversi ma è anche vero che ognuno di noi passa attraverso delle stagioni e spesso il nostro inverno, e quando dico inverno intendo una stagione un po' più buia una stagione piovosa, una stagione in cui non riusciamo a vedere il sole viene messa a confronto con l'estate e la primavera di altre persone persone che in quel momento stanno sbocciando forzando in qualche modo l'idea che tutti dobbiamo sbocciare allo stesso tempo e alla stessa maniera specialmente persone che hanno la nostra età ad esempio e quindi noi accostiamo l'età anagrafica al concetto di realizzazione di determinati obiettivi nella stessa maniera allo stesso tempo e quindi se non raggiungiamo quegli obiettivi in quella fascia d'età significa che stiamo esclusi dalla felicità perché questa felicità in qualche modo viene anche protratta come una felicità felicità a senso unico siamo estromessi da questa felicità e l'abbiamo persa per sempre c'è una specie di filosofia di questo treno che il famoso treno che passa e non passa due volte quindi una volta che l'abbiamo perso è finita c'è questa visione molto fatalista un po' romanticizzata delle opportunità della vita sicuramente ci sono davvero situazioni in cui questo è il caso sono occasioni ripetibili però bisogna anche contestualizzare molto di quello che ci succede e magari tenerci conto che questo treno era semplicemente uno dei treni che è passato che sono passati e quindi una volta che realizziamo che prima di tutto ognuno ha un concetto proprio di felicità e soprattutto io credo che bisogna avere ci sia bisogno di avere un po' più di compassione nei nostri confronti prima di tutto e capire che le nostre paure i nostri scheletri nell'armadio i nostri fantasmi con cui combattiamo sono nostri sono privati e appunto perché sono privati non li mostriamo e quindi non diamo neanche l'opportunità agli altri di dire sì anche io ho vissuto la stessa cosa sì anche per me è stato orribile anche io non ce la faccio più ma piuttosto diamo spazio a nostra volta a questa condivisione frenetica di momenti felici e vorrei porre l'accento sul fatto che non c'è niente di male nel condividere i momenti felici anzi proprio perché siamo felici ci va di condividerli però dobbiamo appunto prendere un po' con con le pinze e con un po' di di buonsenso quello che vediamo dico i social perché l'esempio è più lampante ma in generale anche da pezzi di conversazioni con amici con conoscenti prendere le informazioni che carpiamo e che magari ci fanno sentire un po' un pesce fuor d'acqua ci fanno sentire come fuori fase fuori tempo massimo per la realizzazione dei nostri obiettivi e della felicità e contestualizzarla nella nostra vita e avere compassione capire che così come noi diremo ad un amico questa non è la realtà o questo è un periodo devi capire che il tuo inverno non è non è il tuo inverno non è permanente ma è temporaneo riesca a mettere un po' tutto in prospettiva e poi io sono convinta che l'inverno abbia un lavorio costante che avviene sotto suolo quindi tutto ciò che l'inverno ci insegna è ad irrobustire i nostri dami così saranno pronti ad accogliere i germogli durante la primavera tutto questo discorso spero non non risulti troppo astratto ma che ognuno di di voi che ascolta possa capire che semplicemente perché non stiamo vivendo la stagione giusta o quella che noi consideriamo la stagione giusta non significa non significa che siamo indietro non significa che siamo persi o che siamo fermi perché anche in una stagione in cui ci sentiamo più fermi non significa che le cose dentro di noi non stiano cambiando non stiano fermentando per permetterci poi di arrivare a nuove consapevolezze quindi proprio per questo lavorio interno che ognuno di noi ha non è giusto metterci a confronto con la parte esterna degli altri non so se mi sono spiegata è ingiusto per noi confrontare il nostro dilemma il nostro la nostra parte a volte più scura interna con ciò di più di più brillante che vediamo esterno negli altri che sia a livello fisico che sia a livello emotivo che sia a livello di successi lavorativi personali ogni cosa deve essere considerata nel suo insieme e soprattutto è vero che quando davvero abbiamo fatto questo lavoro di consapevolezza forte dentro di noi è solo allora che riusciamo ad essere anche felici per gli altri ad essere totalmente empatici con gli altri senza per forza sentire il bisogno di dover fare i paragoni semplicemente arriviamo alla conclusione che noi stiamo vivendo questo percorso che è quello giusto per noi e a loro volta gli altri stanno facendo lo stesso nelle loro vite e le due cose dovrebbero essere separate e non costantemente messi a confronto semplicemente sono diverse una volta concludo con una cosa che mi disse una mia amica una volta facendo un complimento ad un'altra nostra amica e lei disse un complimento fatto a lei non è un complimento tolto a te quindi un complimento fatto ad una donna non è un complimento tolto ad un'altra donna e purtroppo abbiamo imparato a ragionare in questi termini in divisione divido il mio amore divido i complimenti quando nella realtà dovremmo imparare a ragionare secondo i termini di moltiplicazione posso essere felice per me stesso felice per gli altri posso essere felice per me stesso e triste che sia successo qualcosa ad un'altra persona posso dividere i miei sentimenti dal ciò che è permanente a ciò che è temporaneo sensazioni che vanno via a sentimenti invece che sono più duraturi ed è solo quando raggiungiamo questa consapevolezza che non è per niente facile e richiede un lavoro di base che riusciamo ad essere felici e finalmente a buttare via la zavorra del confronto sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate quali sono le vostre esperienze se avete trovato questi spunti interessanti e se questo è un argomento che vi sta a cuore perché in prima persona sentite gli effetti del confronto che sia attraverso i social media o no grazie per essere stati con me fatemi sapere se vi piace questo nuovo format e ci vediamo al prossimo video ciao